12 Agosto 2022 Messaggio di San Michele Arcangelo Ascelli Anna L'orso intensificherà i suoi attacchi nel mondo Amati del nostro Signore e Salvatore è urgentissimo entrare nel rifugio spirituale dei cuori santi dove si può ottenere grazia e misericordia L'ora tarda è su di voi mentre si intensifica lo stress delle nazioni L'orso dividerà il mondo in due facendo insorgere l'uno contro l'altro Un grande spettacolo di luce e fuoco illumina i cieli mentre Niburu si avvicina all'atmosfera terrestre Proteggete i vostri occhi da quericolosa illuminazione Amati di Cristo Indossate l'intera armatura di Dio brandendo le vostre armi spirituali in mani oranti per combattere il male che si sprigionerà dai crepacci della terra che l'orso ha aperto Amato popolo di Dio non abbandonate la Madonna dei tempi finali pregate il suo rosario di luce che accecherà queste entità demoniache che presto saranno liberate Sono pronto con moltitudini di angeli a difendervi dalla malvagità e dalle insidie del diavolo i cui giorni sono pochi Così dice il vostro vigile difensore Grazie a tutti